Eccoci qua a Inside Sportface Olympic Edition, sono qua con Mattia Furlani, brozzo, è il salto in lungo, Mattia, ti devo riabbracciare, ti devo riabbracciare, ti devo riabbracciare, allora partiamo subito proprio, come stai, come ti senti, terzo o no Olimpiade, come la stai vivendo in questo momento? Beh, un mix di emozioni perché comunque diciamo che sono entrato sin dal primo salto con talmente tanto dentro la gara che alla fine quando ho finito la gara manco ho contato il fatto di essere arrivato terzo, è stata una gara impressionante, io sono ancora più contento per come sia andata tecnicamente che appunto per la medaglia stessa perché non mi era mai capitato di saltare così bene tecnicamente. finora nella mia carriera, quindi tanta roba, veramente contento, l'ho vista, l'ho seguito dall'inizio alla fine e guarda però ti volevo dire una cosa molto carina, è dal 1972 che un 19enne non prende una medaglia, cazzo. Cioè ti rendi conto proprio di quello che hai fatto, cioè hai fatto una cosa incredibile, ma uno ha 19 anni, cioè come approccia, cioè se a un ragazzo di 19 anni ti venisse da te e ti dissi guarda Mattia come hai fatto a prepararti mentalmente a un'Olimpiade? Beh sicuramente per prepararsi in Olimpiade servono le esperienze, che sono quelle più importanti e che ogni tanto magari sento anche molte persone no vabbè dai non lo mando a un determinato campionato internazionale perché è presto ancora, è troppo giovane ma in realtà le esperienze vanno fatte sin dall'inizio infatti a me molte volte sono stato criticato magari anche dall'europeo dell'anno scorso indoor in cui mi dicevano ma è piccolo perché va a fare i campionati europei indoor, non ha senso quelle tappe sono state fondamentali per arrivare fino a qui e sì poi la crescita, cioè bisogna sempre come dici tu rispettare la crescita dell'atleta certo, è proprio, cioè tu hai fatto delle tappe bellissime tra l'altro quando sei arrivato insomma diciottesimo ai campioni del mondo hai detto ok dovete rispettare la mia crescita, darmi il tempo e in questo momento mi piace molto perché la tua generazione sta proprio, come posso dire sta scalzando via questo ambiente, chiamiamolo così, tossico del dover vincere e dover fare e dimostrare per forza partendo chiaramente da Benedetta Pilato che lei è arrivata quarta con un centesimo ed era felicissima e invece è importante far capire questa cosa, mi piace molto che la tua generazione si diverte proprio a gareggiare, a dimostrare e anche a crescere perché chiaramente dovete ancora andare avanti, cioè avete 19 anni ma sì ma soprattutto, anzi forse ancora di più nell'atletica perché proprio a livello biologico certi risultati non si possono, cioè ve lo assicuro io, ve lo potrà assicurare pure Andrew un diciannovenne che salterà otto e novanta è un po' sì non esisterà mai credo è una cosa, magari le persone a casa non lo sanno però insomma però magari un atleta di nuoto che può fare il record del mondo a diciannove anni può esistere sì, noi abbiamo bisogno diciamo anche di capire determinate cose tecniche, dobbiamo migliorare nella forza, nella rigidanza esatto, quindi nell'atletica è ancora più importante questo discorso per far capire che le tappe sono fondamentali e non bisogna bruciarle grazie